Bentornati ragazzi, madonna santa qua, compara l'improvviso V I E Grazie a tutti Ah Madonna Sto per andare a sbattere Ma muovetevi Eh sì Wow Perché stiamo ritornando in città? Perché qua sta uno Parlato con gente con cui non dovevi parlare Basta con questo discorso Non ne voglio più parlare Sì in mezzo all'erba l'ho ucciso No vabbè ragazzi Non so che volo ho fatto Se ve lo facciamo vedere Voi morivate dalle risate Sono volato da lì A qui Con quella moto Beccati questa Olè direttamente in acqua Bene La morte di Hayden Jordi Sei un grandissimo Cretino Io mi trovo qui E la moto è dall'altra sponda Sei un intelligentone E di nuovo Oh incredibile Atto 3 Il futuro è Bloom Se il T-Bone verrà con me a Chicago Dovrò entrare nell'edificio La sedia della blu E sperti di sequenza Che è successo? Non sarà facile E io sono già sull'orata Ma una volta finito qui Avrò finalmente a Raymond Kennedy Sono all'entrata Ehi sta attento Non puoi entrare lì dentro tranquilla Tutto il perimetro E sorvegliato Non farti beccare O spegneranno i server E avremo chiuso i giochi Non farsi beccare No problem Cazzo ma è uno scherzo Non farsi beccare Non farsi beccare Non farsi beccare Oh, ma non era nella mappa? Ragazzi, questi credono che noi siamo Superman Perché in realtà io non l'avevo visto Voi l'avevate visto quello là? Non credo Ok, ok, ok Sì, andrà qui Cercherai i miei dati nel sistema e li cancellerai E non rileveranno lo spyware? No Io potrò vedermi Ma loro Non potranno più vedermi No C'è come hanno detto di Bon? No No Mamma mia Un certo Damien Branks vuole vederla Damien Branks? Di che si tratta? Dice che riguarda Dragon 3 Ok Tutto fatto Ho cancellato il tuo nome e iniettato lo spyware Prodato Damien Branks Ho già iniziato a pingarmi Bravo E ora Esci di lì Fra poco Ho visto il nome di uno che conosco sui server È nell'edificio Vado a controllare Niente cazzate Hayden Guarda che quelli non scherzano Faccio presto Damien Branks Dove ci porti ragazzo? Da qualche parte interessante Ecco Direttrice delle pubbliche relazioni Di che genere? No, molto piacere Tranquilla Non è un ricadso Se non soldi Cosa vuole? Semplice Le consegnerò i segreti Niente semplice Qual è il suo prezzo Signor Branks? Io voglio Entrare nel sito S Le darò Kenny I segreti E il giustizia Sembra che ha detto Kenny Ken Lo so Non lo so Ai tieni albi Non accetterebbero mai Ma Non lo sapevo Ma Kenny È proprio qui A fondo Cacchio però Lui Reddito 86.200 euro Donati Abbiamo Kenny Muoviamoci È sempre un piacere Essere da gli occhi Cavolo È scattato l'allarme Per l'ultimo dell'area Damien manderà tutto a buttare Non se ne accorge Ci serve dei Kenny No Muoio Ecco Perfetto Perché mi sono buttato così Devo andarmene da qua Oh cavolo Qui serve una mano Ok Da che parte ero là Ma hanno rubato la moto Per il portafoglio Ragazzi qua ci stiamo intanto Incastrando Ma stavolta E ci vediamo Con la prossima puntata